Uno squarcio che fa sempre più paura, soprattutto dopo le ultime piogge. Un maggio travestito d'autunno, acqua temporali ormai da settimane e un teatro che avrebbe ancora una grande voragine sul capo. A segnalare il tetto, ancora lacerato dell'astra, le foto scattate da una telespettatrice di Rete Veneta dall'interno dello stabile di Viale dei Martiri. La signora in passeggiata, trovando le porte aperte, sarebbe entrata indisturbata, curiosa dello stato di salute dello stabile ed alzando gli occhi, ecco di nuovo la voragine. Se c'è ancora un buco, le preoccupazioni aumentano perché non sono settimane in cui il tempo è molto soleggiato, sono settimane in cui sta piovendo a dirotto quasi tutti i giorni, quindi non oso immaginare quanta acqua possa essere entrata all'interno del teatro. E quanto quest'acqua che è entrata direttamente, se il buco c'è stato in queste settimane, chiaramente quanti danni possa aver fatto, ulteriori danni rispetto a quelli che già ha fatto in precedenza. Una pioggia senza fine, quella dell'ultima settimana, che non lascerebbe scampo da lagamenti. Una situazione ormai immobile, quella dell'ex teatro Astra, ormai sempre più delicata. Sono situazioni di grande stallo, un po' alla faccia di alcune dichiarazioni della sindaca che parevano, insomma, per far presagire soluzioni immediate ancora qualche anno fa. In realtà la proprietà e l'amministrazione comunale sono su posizioni ancora molto lontane rispetto a una possibile compravendita. Primo. Secondo, questo è sotto gli occhi di tutti, la proprietà non è che sembri prendersi cura particolarmente del bene, nel senso che, per carità, quando ci sono i crolli ci sono gli interventi, però probabilmente sarebbe stato opportuno intervenire prima che ci fossero i crolli. Quindi non si capisce bene, neanche sul fronte della proprietà, quali siano le intenzioni.